Ciao a tutti e benvenuti in live, siamo qui oggi su GTA su Los Angeles Live Italia e dobbiamo portare avanti questo locale Grazie a tutti Ciao a tutti Dovrebbe essere 17, 37, 57 o giù di lì Ok, va bene, grazie Ciao Grazie 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 Bene Grazie Sono andato a livello 51 di evoluzione, speriamo che vada tutto bene Vediamoci un grossista, lo gioco a Gennaro Grazie Grazie Facciamo benzina lì al mantienmo eto Grazie 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 Grazie. Bene bene. Beh, che dire, sono resettate i chilometri della neon. Non so come dire, però... Ottimo. Ottimo. Ho 1.600 pezzi di carne. 1.698. E di pesce ne abbiamo 1.374. 1.698. 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 andiamo orlando e e e e e e e e non mi risponda niente Orlando non mi risponda che bello quando Orlando non ti risponde il telefono non mi risponda 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 comunque dobbiamo comprare macchine nuove oggi voglio fare un po' di acquisti allora andiamo a vedere il premio deluxe motorsport cosa ci vende tra queste ce le ho già quelle che mi interessavano e quindi basta qua voglio comprarmi la lo comprami l'oracol adesso vedo un attimo adesso vedo un attimo come è veramente le berline e quindi vuole comprami questa la stafford e poi questa qua tra le tutte queste qua invece vorrei comprarmi o l'età di gto o la schlagen quanto costa questa macchina 113.000 dollari ma che c'è ma qual'è questa qua io però non mi interessa molto poi andiamo con l'SMM top secret qual'è questa roba e niente top secret e se ne ho corto ora suv ecco ora abbiamo una parte interessante potete comprarmi un baller sport le lvb un baller sport le cosa cambia tra questo e questo praticamente niente poi contenderlo mi ispira molto il grange potrei prendere il mesa piccolino il patriot questo potrei prendere questo è bello e poi fuori strada vorrei prendere sicuramente potrei prendere il 6x6 perché mi interessava davvero tanto e poi voglio prendere i carari qua metterci il tettuccio sopra ciao il camaccio il miccari canis mesa questo è bello e potete vedere anche il marshal però tra le mascole c'è anche una cosa che mi piace questo questo è un'altra cosa che mi piace che c'è che c'è totò che c'è che cosa c'è totò cosa ti turba e niente ora dovrei cambiare praticamente l'economia e tra poco finisci internet tutto ti continui con il cellulare che c'è Vediamo un po' come cambia l'economia Ah va perfetto La fatina ancora a 30 giga Cambia ancora un bel po' Intanto teniamo un po' d'occhio l'economia Aspettiamo che cambi Ma come non lavoro se l'agosto Cioè dai Io vengo anche 83 Devo fare un po' di spazio Devo fare esperienza con il settore 83 si 140 Pezzi di carne Tac Come la settimana Certo che devo lavorare Richiamo Provo a chiamare Chiedi quando arrivano Devi rompere le palle Che ti ho detto ieri Che ti ho detto Il centralino Adesso internet spunta L'intervenuto del 4 Eh allora Tu chiama e dirgli che non sono passati Che senza internet non vada troppo Devi lavorare con internet Così dire Io sto lavorando con internet Se non trovate internet Se non trovate internet Nel suo momento Cambierò per attore telefonico Digli Devi insistere Devi rompere le palle Devi dire Che Che devi Che hai bisogno Urgentemente di internet Che non puoi aspettare Che devi arrivare subito Vedrai che prima o poi arrivano Si continua a rompere ogni giorno Ogni giorno Ciao daimi Ciao daimi Ciao daimi Grazie a tutti 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 Grazie a tutti